Allora ragazzi mi sono accorta di una cosa io non ho presentato nessuna delle mie amiche sono apparse così dal nulla e oggi me ne sono appena accorta quindi facciamo il video sulle presentazioni delle mie migliori amiche più le foto allora iniziamo dalle presentazioni credo lei è coccola in molti di voi conosceranno il suo canale anche la sua voce la sua faccia ma io ve la faccio vedere lo stesso e lei è vupe lei ma né un canale si un canale ce l'ha ma non ha mai fatto vedere la sua faccia e né la sua voce magari vi lascio il canale in descrizione allora passiamo alle foto delle facce ora ecco questa è coccola in molti di voi la conosceranno e lei è vupe si la tizia arancione e rossa vabbè audio Mi chiamo Coccola e sono la cosa più fuggiosa della terra Non so lei mi sono appena accorta che io non c'ero Va bene e detto questo ci vediamo al prossimo video ciao 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 Ciao